Altra puntata in diretta per Primo Cittadino, questa sera torniamo ad ospitare il sindaco di Senigallia, presidente Anci Marche, nonché candidato governatore del Partito Democratico per le prossime elezioni regionali. Do il benvenuto a Maurizio Mangialardi. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Contagi che purtroppo sono in aumento, 38 in totale nella regione Marche, di cui 36 nella provincia di Pesaro Urbino e 2 nella provincia di Ancona. Tra questi ultimi rientrano dei casi nel comune di Senigallia? No, per il momento no. Ovvio che però sono oggettivamente solo questioni di giorni, visto il trend che si sta determinando su scala regionale. Ci sono però degli operatori sanitari in quarantena nella vostra zona. Sì, è successo, sono 65 su scala regionale e due sono anche di Senigallia. Per quanto riguarda invece il settore turistico ed economico avete subito dei danni? Sì, già è capitato anche per, come dire, per farsi allarmi e quindi un albergo aveva un suo cliente solo con l'asma e poi invece poi i social hanno fatto dei danni abbastanza complicati da gestire. Però siamo comunque dentro una partita complicata per tutto il territorio nazionale. A proposito di territorio nazionale, come crede che sia stata gestita questa situazione, questa emergenza nel rapporto tra governo e regione? Ma io dico che sul piano dei focolai molto bene. Devo dire molta puntualità nell'azione. E' mancato, ma forse si può anche capire, un coordinamento vero, forse un po' tardivo, si è lasciato libera interpretazione e poi succedono situazioni disomogenee sul territorio nazionale e con anche contrattamenti del governo differenziati rispetto ai provvedimenti che sono stati assunti. E vado subito a leggere i messaggi che ci stanno arrivando. Ci scrive uno studente dell'Istituto Bettino Padovano di Senigallia. Mi riferisco, ci dice, alla chiusura delle scuole sono nel Pesarese. Vorrei fare presente che solo nella mia classe, composta da 25 persone, 14 sono proprio di quelle parti. E poi le precauzioni emesse come ad esempio la distanza di un metro l'uno dall'altro è veramente inutile, anche perché la massima distanza a scuola, immagino, nei banchi, di 15 centimetri specifica. Non capiamo a che cosa servono queste restrizioni se poi non vengono rispettate. Ci precisa che anche alcuni professori sono proprio della provincia di Pesaro Urbino. Che cosa risponde? Guardate, io rispondo che in una fase di emergenza nazionale deve essere il governo che decide quali siano i provvedimenti da assumere. non sono i social, non sono le nostre libere interpretazioni, non sono nemmeno i provvedimenti singoli. Ognuno per il proprio ruolo deve far presente quali sono anche i limiti d'azione. Il governo ha deciso che le regioni e i comuni non possono fare più ordinanze per chiusure estemporanee. Quindi è il governo che decide e quindi il provvedimento che è stato assunto l'altro ieri prevede la zona rossa fino alla provincia di Pesaro. Capisco che per noi, lo dico per me, che magari devo gestire gli studenti che vengono dalla provincia di Pesaro e capite bene che la Val Cesano gravitano quasi tutti sulle nostre scuole superiori. Purtroppo però il disciplinare è quello e ci dobbiamo attenere tutti. Quindi lo dico perché altrimenti lascia libera interpretazione, sì, sui paradigmi di come ci dobbiamo comportare. Forse se avessi avuto mano libera avrei fatto sicuramente una cosa diversa. Però noi un evento come questo non lo possiamo più calare solo e semplicemente sul percepito o sull'idea della sollecitazione. Io spero che chi sta gestendo a livello nazionale lo faccia con un'adeguata competenza. Lo spero davvero. Ecco oggi la situazione è proprio quella che lei ha appena descritto. Come ha valutato invece il provvedimento iniziale che aveva preso Ceriscioli proprio chiudendo scuole, università eccetera? Era indispensabile. Io l'ho seguito anche perché la Liguria l'aveva fatto nelle stesse identiche condizioni. lo aveva fatto il Friuli. E poi ovviamente quando il governo si è reso conto e quindi la gestione che rischiava la macchia di Leopardo hanno fatto bene il governo a costringere tutti a stare dentro regole che hanno determinato. Però in quella fase ineludibile non si poteva fare altrimenti. A proposito di Regione non possiamo non parlare di quello che è accaduto in questi ultimi giorni. con l'aiuto anche poi dei quotidiani. Qui vediamo alcune fotografie della giornata di ieri. Giusto? Perché ormai è nota la notizia che è ufficialmente il candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali. Il candidato presidente. Abbiamo appunto come dicevo i quotidiani, gli articoli che sono usciti questa mattina. Il Partito Democratico candida Mangialardi. Il sindaco di Senigallia ha ricevuto anche l'ok della segreteria nazionale. Questo è successo proprio ieri. Andiamo avanti perché abbiamo anche quello del Corriere Adriatico. Mangialardi si commuovi. Il PD è con lui. Da domani via agli incontri con gli alleati. Questa è proprio la fotografia che ritrae lei, che abbraccia il presidente Ceriscioli. Presidente che ha deciso di fare un passo indietro proprio per, ha detto, per il bene della regione Marche. L'ha lasciata un po' sorpresa questa notizia. Sì, intanto sul piano del comportamento. Io penso che non ci siano pochi casi dove un governatore serio, che si è dedicato con tanta passione e anche tanta competenza, anche con grandi risultati, ma ne parleremo in un altro momento, che decide di fare un passo indietro, uscire per facilitare una convergenza. E quindi questo va reso onore al presidente Luca Ceriscioli perché, ripeto, non sono comportamenti usuali in politica. E poi che ci sia stato di fatto un voto unanime dentro il Partito Democratico sulla proposta che il presidente ha fatto. Questo è ancora più eccezionale perché di solito noi siamo notori perché il Partito Democratico è pronto sempre a dilaniarsi. Quindi invece un voto unanime che mi ha riempito ovviamente di grande responsabilità. Però c'è anche un percorso dietro perché il supporto è stato quello dei sindaci. Quindi tanti sindaci di tutto il territorio marchigiano che hanno aderito a una possibile disponibilità e quindi che li ringrazio tutti perché alla fine li conosco tutti da Ascoli fino a Pesaro. E poi il grande passo che ha fatto anche il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli che era ovviamente anche con tutti di loro. Una possibile candidata. Esatto, anche lei ha deciso che non era disponibile però ha visto in questo percorso la possibile sintesi che non penso che sia solo del Partito Democratico. E poi ovviamente Matteo Ricci che... Si è incassato anche su appoggio. Eh, vabbè, sono atti di responsabilità. Capisco che dentro il centro-sinistra di solito siamo più orientati a frantumarci. Ecco, questa è la sintesi di quell'incontro. Di quello che sta dicendo. È lì, in quella foto con Matteo che ovviamente condivideva in pieno. Oggi però dobbiamo fare qualcos'altro, dobbiamo allargare il centro-sinistra però penso che ci siano tutte le condizioni per farlo. Ci dovrà essere anche un rapporto adesso con gli alleati visto che puntavano su un nome civico. Beh, io quello dico per tutti. Più civico del sottoscritto non c'è nessuno. Perché sono il sindaco... Per espressione PD lei. Sì, però nelle firme dei cento sindaci ci sono quelli che sono del civici civici, ci sono sindaci di centrodestra, ci sono sindaci di sinistra-sinistra e quindi alla fine viene fuori una candidatura civica sul serio. Ovvio che però io continuo a dire che il lavoro che è stato fatto in questo periodo dove il tavolo era un po' indebolito dalla posizione che il Partito Democratico non riusciva ad assumere e non deve essere depauperata. Quindi le forze che sono state sedute al tavolo, che hanno avanzato anche la proposta di Sauro Longhi, vanno recuperate e va recuperato, io dico anche il percorso che l'ex rettore ha fatto. Perché ha scaldato qualche cuore, ha trovato un popolo che normalmente non partecipa, ha trovato anche purtroppo i percorsi tipici della politica, il no dei 5 stelle, il Partito Democratico un po' rigido e pian piano qualcosa che si è sfilato. Però io ho avuto modo anche ieri di ribadire, io voglio recuperare quella modalità e voglio recuperare anche quella figura, ovviamente se è disponibile. E quindi lavorerà anche ad un'alleanza con i pentastellati? Ma adesso i pentastellati ovviamente che rispetto molto, però mi sembra di capire che esperienze come quella di Pesaro poi non sono date a buon fine. Quindi con calma dobbiamo cercare di far capire il nostro progetto e spero e ritorno al civismo che Sauro Longhi incardina, dobbiamo farlo pensando che Longhi non è nato per dividere e quindi ci confido molto, perché oggi il centro-sinistra non si può presentare diviso, non se lo può permettere, partiamo tra l'altro in grande difficoltà e quindi dobbiamo unirci per forza. Ma ripeto, spero che Longhi abbia compreso l'opportunità che insieme potremmo avere. Crede che nel processo per alluvione per Senigallia, nel quale è stato rinviato giudizio, possa questo influenzare in qualche modo il rapporto con gli alleati? Ricordiamo poi che alla prima udienza si terrà a ottobre 2020. Io non penso, tutti sanno che il sottoscritto ha un problema con la giustizia, che non riguarda nemmeno una multa che ho mai preso, ma un problema che è capitato e del quale non ho nessunissima responsabilità. Avrò modo durante il processo di dimostrarlo, lo voglio fare, perché oggi capiamo che il fiume della Regione, che la manutenzione doveva fare la Regione, che è stato un effetto eccezionale e lo sappiamo, ho avuto modo più volte, ma avete dato questa bella occasione. Quindi questo non è un tema, penso. Io non penso che nessuno possa strumentalizzare da dentro il partito, da dentro il centro-sinistra, ma nemmeno dall'opposizione. Perché vedete, chi fa il sindaco oggi è un gladiatore. E quindi i 200 e oltre sindaci delle Marche sono tutti sempre lì, sul filo del rasoio. E quindi lo sappiamo che chi più ci mette in responsabilità, più rischia. Io sono sempre uno di quelli che rischia, perché guardo il bene dei cittadini e provo sempre a trovare una soluzione. Andiamo avanti con i messaggi dei cittadini. Nel pomeriggio c'è arrivato questo. Qual è la sua visione della sanità marchigiana, in particolare dell'ospedale di Fano, che di fatto non è più un ospedale? In questi giorni ci siamo resi conto che nelle regioni più colpite dal coronavirus, nelle zone poi, nelle aree cittadine con 15 mila abitanti, c'è un ospedale, mentre Fano con i suoi 60 mila abitanti circa ha una struttura ridotta e svuotata delle principali funzioni di un ospedale vero. Se lei è stato candidato da Ceriscioli, ci scrivono, il timore è che condivida in pieno le sue strategie. Le vado a leggere anche un altro che è più o meno simile. Visto sempre questo problema del coronavirus, la carenza ospedaliera si fa sentire nelle Marche. Cosa pensa il signor Mangialardi di questi anni di tagli derivati proprio dal suo partito? Beh, intanto non è troppo semplice e anche troppo impegnativo rispondere davanti a una situazione di emergenza come questa, dove la sanità marchigiana la sta rispondendo in maniera molto efficace e molto precisa. Un grande ringraziamento a tutti gli operatori perché stanno veramente lavorando in maniera puntuale e determinata. Quindi questa è la situazione. Ovvio che lo vedete in Lombardia, non è che ci sia una situazione assolutamente diversa, la prendiamo spesso come modello. Dico che molte cose vanno ricalibrate, questo sì, perché i processi di riforma sono rimasti spesso impiccati e su Fano, mi permetto, ancora non è stato ridimensionato proprio nulla, quindi non c'è un ridimensionamento. C'è una scelta dell'ospedale unico, ma in questo momento non ci sono assolutamente situazioni ridimensionate. L'ospedale unico è stato scelto, tra l'altro dando anche tante funzioni all'ospedale di Fano che rimarrà dovremmo capire insieme quale sia l'equilibrio giusto tra appropriatezza di prestazioni e strutture da collocare sul territorio. Vorrei aggiornare un attimo anche su quello che sta succedendo a Fano. Ci hanno scritto, vorrei far presente che oggi sono stati chiusi i reparti di pediatria, pronto soccorso pediatrico, nido e osseritricia. Non si conoscono bene i motivi di questa chiusura, cercheremo anche noi di far luce ovviamente nei prossimi giorni. È chiaro che la situazione del coronavirus sposta il personale, quindi ritengo che sia legata a questa situazione contingente. Chiedono anche come pensa poi di procedere, se verrà eletto sulla questione dell'ospedale unico e della sanità marchigiana, se rimane su queste linee. Guardate, adesso è tutto prematuro. Io mi conoscete, conosco bene il territorio, conosco le scelte che sono state fatte, io penso che invece un confronto serrato di condivisione con il territorio sia indispensabile, anche per far capire bene le scelte che forse invece in questa fase è sicuramente mancata. Ci stanno scrivendo ancora dei ragazzi, ad esempio uno di Mondavio in provincia di Pesor Orbino dice che viene a scuola a Senigallia ma ha paura di essere un portatore, però la provincia di Ancora dovrebbe chiudere visto che è a confine. Magari perché si fosse sintonizzato in questo momento, il sindaco ha spiegato appunto prima che purtroppo è una decisione che viene presa a livello nazionale, purtroppo o per fortuna, in questo caso c'è un tema che forse doveva essere circoscritta per comune, dovevamo arrivare fino a Fano, invece è arrivato fino al confine, dovevano lasciare una maggiore flessibilità, può darsi, però io ritengo anche per lo studente che dobbiamo stare oggi dentro, e lo ribadisco, dentro un'emergenza nazionale, la guida deve essere per forza a livello centrale, perché se no rischiamo di avere operazione macchie di leopardo non ce lo possiamo proprio permettere. Poi ovviamente ci possono essere situazioni come quelle che sono state sottolineate. Ci scrivono anche che non sono pienamente d'accordo su questa possibile alleanza con il Movimento 5 Stelle. Adesso io ho detto alleanza, io ritengo che bisogna confrontarsi con tutti, poi avere programmi chiari, qualche punto preciso, e poi stare in mezzo alla gente. Io sono uno del popolo, lo dico senza nessun tipo di problema, e penso che sui programmi ci si possa confrontare, senza situazioni preordinate dall'alto, questo certo. Abbiamo parlato di scuole, c'è anche una bella notizia, perché sono in arrivo circa 300 mila euro proprio per una scuola. Poi è una scuola che sono particolarmente legato, perché è la scuola di Borgobicchia, è una scuola che è stata alluvionata, intanto dove il Rotary Club ha investito tante risorse per cercare di ripristinarla. abbiamo partecipato a un bando e sono molto contento che ci siano qui 300 mila euro per riqualificarla. Gli adeguamento sismico, efficientamente energetico. Sì, esatto, efficientamente energetico, dentro un contesto molto particolare, per un quartierino molto bello, e quindi la scuola già si presta, verrà fuori sicuramente un lavoro adeguato. Qual è invece la situazione delle altre scuole? Non ce n'è nessuna a rischio, in base anche alle norme? Beh, se devo dire come in Italia tante sono a rischio, nel senso che magari se andiamo a guardare i coefficienti che ci hanno dato, di vulnerabilità sismica, però stiamo intervenendo in tante, proprio in tante, dobbiamo dire su questo il governo è stato molto disponibile, ha messo delle risorse, quindi il prossimo lavoro sarà la Fagnani, abbiamo già il progetto della nuova scuola Marchetti che sarà vicino alla struttura della piscina, alla Cesanella un nuovo plesso nella zona che abbiamo recuperato del piazzale Michelangelo, quindi sulle scuole c'è tante risorse, così almeno rimetto anche l'altra casacca, quella del Lanci, e tanti comuni nelle Marche sono stati bravi a trovare finanziamenti, questo sì. A proposito di Anci, è uscita proprio sull'ANSA una notizia, una richiesta che arriva da parte del senatore Antonio Saccone, commissario regionale dell'Udc per le Marche, il quale auspica che lei lasciasse l'Anci Marche per far sì che questo ruolo poi da coordinatore di Presidente Anci venga attribuito ad un sindaco a tempo pieno. No, no, ma io penso che sia una richiesta assolutamente legittima, anche se, se devo dire, non sono solo il coordinatore dell'Anci regionale, sono il coordinatore dell'Anci nazionale. Quindi ha maggior ragione. Quindi è ovvio che come la situazione si sarà certificata, farò i passi che servono, ma non perché non abbia tempo di farlo, ma forse perché non è giusto farlo con il doppio ruolo, questo per rispetto di tutti. E questo vieneva riconosciuto. Caro sindaco, Borgo Ferretti è arrivata la lettera per l'indifferenziata porta a porta finalmente. È arrivata a dicembre e siamo ai primi di marzo e non si sa più niente. Lei sa l'evolversi della situazione? Ma su Borgo Ferretti devo dire che prima erano i cittadini che hanno voluto l'isola ecologica, poi ci hanno ripensato, vogliono il porta a porta, ben venga, adesso ovviamente bisogna mettere nei condizioni che l'impresa che gestisce possa poi fornire, ma penso che sia ormai in questione di giorni. Però c'era questa, perché ogni volta che vengo qui mi chiedono di Borgo Ferretti dell'isola ecologica, non è pubblica, è di un gruppo di residenti che hanno preferito quel tipo di soluzione rispetto al porta a porta singolo. Della Tombino, raccolta acqua e piovane a Borgo Catena, presso il Civico 68, lo specificano, rimarrà dopo 50 anni per il prossimo sindaco grazie all'ufficio strade. Ma un giorno, ci faccio lei un giro a vedere, perché c'è una frannosità ai lati del cemento armato. C'è questo Tombino del 58, mi perseguita in ogni dove. Perché non è stato sistemato, però evidentemente. 50 anni forse ci sono un po' più di problemi su espropri o qualcos'altro, però accetto l'invito a visitare anche il Tombino. Tanti le stanno facendo anche un in bocca al lupo insomma per il suo futuro. Grazie, vivi. Andiamo avanti con il PRG, perché di recente il Consiglio Comunale appunto ha approvato questa variante parziale, denominata città resiliente. Che cosa prevede? Ma il lavoro, vedo che siamo lì con il Vice Sindaco Meme. Sostanzo una riduzione, no? Ma no, tante cose. Ci stanno tante cose, ossia una visione della città. Intanto quella della riduzione del consumo di suolo. Oggi ci stanno arrivando praticamente tutti i comuni e noi siamo partiti dieci anni fa con i primi provvedimenti e poi la rigenerazione urbana. cioè puntare sul facilitare gli interventi nelle zone di degrado e consentire anche con incrementi di volume con modalità che permettono la riqualificazione degli spazi di intervenire. Ma insieme con questo ci sono interventi che prevedono la realizzazione di scuole. C'è una variante che facilita gli interventi alle strutture ricettive. Quindi una pianificazione che sta nelle corde di questa amministrazione che abbiamo agito per tanti anni. In centro storico è difficoltoso per i disabili entrare? Ci sono dei paletti? Bisogna telefonare sempre i vigili per rilasciare il permesso? Non c'è un altro sistema? Le chiedono. Sì, intanto c'è mai Cicero. E quello è assolutamente molto semplice perché con una semplice app non c'è bisogno di telefonare a nessuno basta fare un clic e si può accedere al centro storico per i diversamente abili ma anche per i cittadini che hanno necessità di entrare dentro la ZTL. Andiamo in via Podesti perché sono iniziati i lavori di manutenzione stradale dovremmo avere ecco qua questa immagine e quindi la pavimentazione nel tratto compreso tra via Dalmazia e il Cernin. Sì, sì, Cernin. Ecco quindi questo intervento atteso sono partiti i lavori. Sì, nell'ultimo periodo nell'ultimo anno si sono liberati come abbiamo avuto modo di confrontarci un po' di risorse non più il patto di stabilità quindi un po' di interventi sulle strade non occorre tanta visione ecco vedete lì funziona basta una vibrofinitrice e occorrono le risorse per farlo. E' anche trafficata questa strada. Esatto, no, no c'era la necessità ovviamente abbiamo accelerato prima dell'estate perché a metà marzo abbiamo la Tirreno Adriatica e quindi c'era la necessità di avere una pavimentazione che è in grado di poter ospitarla con come dire con elementi di sicurezza per i tanti ciclisti professionisti che passeranno nella nostra città. Complimenti per le luminari di Piazza Garivaldi siete sempre una spanna avanti anche questa è stata una questa è carina ne avevamo parlato non tanto le luminarie quanto la piazza ecco cioè la piazza è incredibile e poi abbiamo fatto bianca San Valentino insomma sì è stato tra l'altro un successo clamoroso per i nostri operatori alberghieri perché abbiamo venduto pacchetti importanti e la città ovviamente si presentava bene e la piazza diventa un gioiello quindi la piazza è bella e possono creare tanti eventi e questa è una come dire una dimostrazione concreta questo sindaco ha reso molto più bella Senigallia i funerali in silenzio senza dare nell'occhio è sempre stato presente ha fatto di tutto per la bellezza della città onora al merito però a Borgonicchia ciclabile semaforo oltre alla strada nuova dall'altro lato sulla Corinaldese poco o niente no no ha ragione cioè non è vero a Borgobicchia non ne stavamo parlando prima facciamo la scuola ci sarà da fare però la strada non è la nostra è una strada nazionale ora regionale e quindi ci saranno c'è la necessità di fare tanti interventi quindi il prossimo sindaco avrà da fare anche se gli abbiamo lasciato una bella città gli abbiamo lasciato tanto di di programma di eventi programmati e ci sarà risposte importanti nel prossimo periodo a proposito di comunali inizia anche il totonum mi immagino beh mi sembra che che siano già delineati almeno per per un pezzo per il centro-sinistra compatto c'è Fabrizio Volpini sono anche particolarmente soddisfatto per l'esperienza che ha lo dico senza poi c'è ci sono anche altri stanno arrivando anche quelli del centro-destra un po' fatica perché comunque quando si governa bene di solito le opposizioni vanno un po' in difficoltà e quindi ancora non hanno dichiarato sindaco che lavori si stanno facendo davanti al seminario davanti al seminario facciamo un parcheggio da 300 eccolo qui qui solo di qualche giorno fa invece la struttura è completamente finita un parcheggio di oltre 300 posti auto una rotatoria e un collogamento con il centro storico abbastanza rapido questa è una bella risposta perché in 6 minuti si è in piazza Garibaldi e penso che parcheggiare in quel luogo potrebbe risolvere tanti problemi anche i nostri commercianti che hanno bisogno sempre del parcheggio di struttura ecco adesso lì ce l'abbiamo e a breve partiranno anche i lavori per la rotatoria in via Cellini dovremmo dire sì esatto sono sempre di fianco appunto sono praticamente di fronte al parcheggio è quello che magari qualche telespettatore ha già visto cioè il cantiere è già aperto in questi giorni allora abbiamo tanti altri messaggi ma io direi di andare un attimo in pubblicità e poi torniamo in diretta con il sindaco Maurizio Mangialarghi a fra poco siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi dicevo che sono tanti i messaggi che ti state inviando devo dirle in realtà riguardano tanto il coronavirus perché insomma è capibile una preoccupazione che ci può essere anche se vorremmo cerciare detto niente allarmismo di certo una situazione che non deve essere sottovalutata esatto ma proprio l'equilibrio lì dobbiamo essere bravi con le norme di comportamento individuale norme igieniche sapere quello evitare le situazioni affollate quello che senza senza panico ma senza mai senza sottovalutarlo e queste sono le domande che si pongono i telespettatori mettete caso che con il coronavirus si andasse a complicare la situazione si chiudono negozi e fabbriche che cosa succede come ci si comporta e che diritti abbiamo cassa integrazione e ancora possibile che non si devono sapere i nomi di coloro che hanno contratto il coronavirus se si sapessero magari i vicini gli amici e i parenti sarebbero un po' più tutelati e sarebbero più tutelati e prenderebbero anche con più solerze alle contromisure quindi potrebbero tutelare se stessi e poi gli altri che cosa ne pensa lei sarebbe giusto comunicare un po' rispetto alle necessità di ordine economico e finanziario per affrontare questa situazione è indubbia mi sembra che già il governo tra l'altro in alcune situazioni ha già provveduto almeno con i provvedimenti transitori dopodiché adesso perché è vero che è una una situazione di carattere nazionale ma ci sono sempre i dati sensibili non è che possiamo mettere alla gogna nelle liste di proscrizione un malato c'è una prevasi da rispecciare ecco dobbiamo stare molto attenti dobbiamo sempre sensibilizzare e evitare che un contaminato consapevole possa andare in giro e poi contaminare anche gli altri una delle grandi pecche della nostra regione è il sistema di trasporti pubblico di trasporto pubblico ferrovia solo lungo la costa senza la macchina non è possibile muoversi soprattutto se vieni dall'introterra in un periodo in cui si parla molto di mobilità sostenibile che cosa pensa di poter fare per il trasporto pubblico no no ma questo è un grande tema questo è vero mi fermerei alle valutazioni dell'accessibilità a questa regione se non fosse stato per il provvedimento che il governatore Ceriscioli ha assunto rispetto alla report avremmo chiuso anche quello quindi voglio dire abbiamo la falconara Roma ancora con un binario sappiamo che cos'è il sistema di stradario di collegamento est-ovest quindi un grande tema che va affrontato abbiamo la terza corsia autostradale che si ferma a due terzi della nostra regione quindi è un tema che va affrontato in maniera determinata questo è certo anche quello delle piste ciclabili no? certo ma quello anche voi avete lavorato su questo Senigallia esatto ma sì su quello penso che la regione invece abbia fatto come dire il suo ruolo si è assunta il capofila della ciclovia adriatica lì ci sarà una grande chiave di volta senza dubbio e lo dico qui siamo protagonisti con Fano Marotta e Senigallia dentro un unico progetto del quale siamo veramente molto orgogliosi compreso il ponte sul Cesano andiamo in via Metauro e via Adige perché c'è un bel rinnovo delle condotte fognarie beh stavamo dentro quel percorso che dicevamo prima esatto un po' di risorse che si sono liberate c'erano degli impegni in alcune zone come in quella e abbiamo approfittato per rifare tutti i sottoservizi e poi la ripavimentazione stradale di quelle strade che avevano bisogno di una particolare attenzione con alcune modifiche insomma alla viabilità perché sì certo adesso comunque cantiere complicato poi partirà nei prossimi giorni anche quello dello stradone Misa una strada di particolare collegamento quindi qualche disagio ce l'avremo sicuro uno dei punti critici di Senigallia è la viabilità tra questi l'incrocio della penna qual è lo stato dei lavori per la realizzazione della rotatoria? ma adesso punti critici della viabilità di Senigallia questo varrà un dibattito di dieci anni fa noi abbiamo a differenza di altre realtà abbiamo una complanare che ci bypassa completamente quindi da Cesano fino a Marzocca non c'è più bisogno di passare dentro la città abbiamo sbloccato finalmente il contenzioso tra privati dove nella curva della penna dovranno realizzare quindi forse ci arriviamo anche prima dell'estate con almeno con la rotatoria provvisoria ci chiedono ancora per gli alunni che frequentano le scuole di Senigallia ma residenti Marotta Mondolfo Monteporzio eccetera non esiste il rischio di infettare purtroppo non abbiamo la certezza su questo però evidentemente magari ripetiamo perché si fosse sintonizzato in questo momento ripetiamo di nuovo che il comune non può prendere decisioni i comuni esatto tutti ne quello di Mondolfo dobbiamo stare tutti a decreto nazionale esatto ho sentito oggi il presidente Ceriscioli che mi ha detto che ovviamente lui solleciterà qualora dovessero comparire casi fuori dei comuni che sono stati perimetrati la possibilità di rivedere appunto l'area di interesse passiamo all'ex pescheria perché non verrà chiusa beh sì non viene chiusa viene c'è stato un accordo insomma mi sembra ecco il foro nonare è uno dei posti più belli e frequentati nella nostra città viene realizzata la vetrata come avevamo detto per fruirne di più ma ovviamente è uno spazio come si dice un open space vero per i tanti ragazzi e le ragazze che lo frequentano quindi verrà quindi verrà sostanzialmente si spera entro qualche mese se no dovrebbero partire la gara in gara d'appalto in questi giorni vorrei chiedere al sindaco si può spendere due parole su via Leannite Garibaldi a quando il rifacimento del manto stradale il sindaco il sindaco Mangialardi su via Leannite Garibaldi non può più intervenire e quindi non ci sono le condizioni oggi per farlo perché lì occorre un progetto serio va ripensato tutto vanno rifatti marciapiedi bisogna prendere delle decisioni adeguate su un piano viario che è ormai quasi impercorribile però non basta solo ripavimentare perché lì se si toccano le radici di quei pini i stessi alberi poi sarebbero compromessi dal punto di vista della stabilità e quindi va fatto un progetto quindi non è in poco tempo come dire non l'ho fatto finora e non è pensabile che questo avvenga negli ultimi tre mesi quindi decideranno i cittadini e decideranno il nuovo sindaco per come intervenire in quella strada e non solo quando verrà effettuata invece la pista ciclabile sul lungomare Mameli? mi verrebbe da dire quando sono finite le polemiche sull'altro lungomare perché poi tutti vogliono la pista ciclabile poi quando vengono realizzate ovviamente siccome hanno bisogno di una serie di provvedimenti che sono anche lì ti portano a stare dentro le regole del codice della strada e qualche problema si determina però lo dicevamo prima ciclovia adriatica ponte sul cesano finiamo l'intervento nel lungomare di Levante con la pista ciclabile fino a Marzocca e poi passeremo da quest'altra parte per favore dal corso al bar Italia non mettete più le righe per le moto ma per la sosta selvaggia perché c'è un po' di sosta selvaggia lì sindaco dal dal corso al bar Italia ma ah beh forse sì forse nel non lo so al posto delle moto magari ci parcheggiano auto forse ci mettono i motorini cioè invece di mettere i motorini ci mettono le macchine sì va bene se passano i vigili faranno anche le multe quindi magari ecco avete fatto bene a sollecitarlo il ponte 2 giugno invece si può abbattere è arrivato l'ok della soprintendenza qui c'è una storia un po' ma sono molto contento sono molto contento del punto di caduta perché io ho sempre detto che a fronte di un un intervento non adeguato alla bellezza di quella città avrei preferito il ponte pedonale questo lo dico oggi abbiamo trovato una soluzione che non è eccezionale ma che potrà essere anche migliorata quindi dobbiamo recuperare quell'impronta architettonica del vecchio ponte ma lo sarà carrabile penso che venga fuori un bel intervento e anche qui entro fine mese dovrebbe partire l'appalto sì sì siamo nelle non aspetta il comune di Senigallia ma aspetta la regione quindi spero che ecco nelle prossime settimane ci sarà questa disponibilità ad appaltare l'intervento che per noi è determinante ma non tanto per la funzionalità del ponte ma quanto per la sicurezza del fiume che è un altro bel tema certo e c'è stata invece anche una bella stretta sull'evasione delle tasse qui siete voluti intervenire sì ma va bene abbiamo fatto un protocollo quindi io penso che i cittadini che sono temperanti alle regole vadano premiati e gli altri messi nelle condizioni di rispettarle quindi penso che ci sia un bel percorso anche di condivisione con il cittadino anche per disincentivare esatto quando ci sono i controlli io penso che può facilitare anche con provvedimenti non subito nemmeno troppo penalizzanti stradone Misa in che cosa consistono i lavori di miglioria Sindaco? non ripavimentiamo solo il piano viario quindi verranno riguardati tutti i sottoservizi fatti cassonetti stradali fresata binder tappeto e sì è una strada molto frequentata quindi anche con il il tappeto drenante anche molto meno rumorosa per chi vi abita e sono tanti ormai siamo quasi al termine di questa puntata mi piacerebbe però con lei fare anche un po' il punto della situazione di quello che è stato fatto non in questi ultimi cinque anni ma negli ultimi dieci senza stare a elencare insomma tutte le cose fatte perché in dieci anni immagino che l'amministrazione comunale le abbia fatte davvero tante c'è qualcosa in particolare di cui ne va particolarmente soddisfatto? ma io penso sì non possiamo fare l'elenco degli interventi però come dire come filosofia è stata quella di di dare centralità a una città che l'aveva un po' smarrita oggi non siamo più a tanti chilometri da qualcuno o tanti altri da un altro siamo a Semigallia e questo forse è il tema che abbiamo sviluppato meglio abbiamo un centro storico eccezionale abbiamo tenuto la barra ferma sui servizi alla persona abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno quindi turismo e servizi sociali i due pilastri veri anche nel momento di crisi di questa sono veramente soddisfatto poi chi arriva da noi si accorge che è una città che sa abbracciare sa abbracciare bene i turisti sa abbracciare bene anche le persone in difficoltà e sono veramente soddisfatto su questo fronte c'è qualcosa invece che avrebbe voluto fare ma ha preferito non farlo oppure non ha avuto il tempo visto che come dice lei ci sono dei progetti che in realtà richiedono tanto lavoro e quindi i tempi stringono ma per uno come me che vorrebbe far sempre una cosa è finita ne ricomincia un'altra forse sì avrei voluto avrei voluto che il progetto della saccia di talciamenti non fosse incappato dentro le grinfie di una crisi profonda di un fallimento dell'impresa del fallimento della banca e quindi abbiamo questa questa situazione ovviamente lì quasi a ridosso del no a ridosso del centro storico del lungomare che rimangono impiccate ecco però come si dice se dovessi tornare indietro rifarei esattamente tutto quello che ho fatto forse anche qualcosa in più prima di farle l'ultima domanda le leggono gli ultimi due messaggi le chiedono a quando è la fine dei lavori per il parcheggio del seminario e poi se è vero che lo stadio verrà coperto quindi il seminario allora il seminario dovrebbe concludersi per maggio anzi siamo quasi certi con la rotatoria e con il sistema ci siamo un intervento privato ma mutuato dal pubblico lo stadio verrà realizzato e messo a norma verrà sicuramente riqualificato in tutte le sue vesti ma non è prevista la copertura dello stadio anche se come dire come idea non è per niente male hanno telefonato anche per chiedere su via Perugino a Cesanella dicono che è un collabrodo quando verrà sistemata se sono previsti anche dei marciapiedi che non ci sono più beh posso dire che così come sono abituato no stiamo facendo alla Cesanella abbiamo fatto il sottopasso abbiamo portato la farmacia abbiamo riqualificato l'ingresso abbiamo asfaltato tante strade una per volta come dappertutto altri avrebbero detto non vi preoccupate io dico non è per questo momento poco fa hanno chiesto anche che cosa ne pensa sul digestore anaerobico che dovrebbe sorgere nella città di Fano lei è a favore è contrario a questi tipi di impianto sono assolutamente a favore non so dove viene collocato e quindi bisogna avere la precauzione dell'inserimento però un digestore anaerobico significa evitare gas serra che si liberano nell'area e significa recuperare materiale organico per poi usi diversi come emendante ma soprattutto energia quindi se collocato in un luogo adeguato non è pericoloso non ha nessun tipo di difficoltà ecco non so in questo caso dove è previsto però con le adeguate precauzioni che sono quelle più per il convincimento dei cittadini che altro un impianto sicuramente importante dovremmo avere anche una telefonata pronta sentiamo dalla regia se siamo riusciti a recuperarla oppure c'è ancora qualche minuto da attendere ce l'abbiamo? no la recuperiamo la recuperiamo sono un telespettatore che vuole vuole parlare con lei quindi attendiamo ancora un attimo qualche istante quindi insomma diceva a proposito di asfaltature di solito in primavera ci sono questi 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 ci sono tanti cantieri l'abbiamo già annunciati uno in modo particolare quello della pista ciclabile quella della ciclovia adriatica che ha aperto anche un po' di polemica non poca perché la pista ciclabile impone ahimè in quel luogo il senso unico quindi una serie di disagi che mi rendo conto anche importanti per i cittadini però abbiamo anche chiesto a un comitato di avanzare una proposta per vedere se ci sono situazioni alternative mi sembra un po' complicato da perseguirle quindi finiremo anche lì presto però e quando finire sarà molto bella bene sentiamo chi c'è in linea buonasera buonasera sono Gabriele d'Ascoli vicino vuole fare una domanda al Mangialardi si riguardo la disoccupazione che purtroppo a Emegna la nostra regione ha raggiunto livelli drammatici soprattutto per quella parte del sud delle Marche già colpita dal terremoto e ultimamente anche da dal coronavirus diciamo anche se immaginalmente come pensa di agginare questo fenomeno specialmente per quelle fasce di popolazione esclusi dal reddito di cittadinanza ecco e se pensa che l'anno che fu ideato dal suo partito purtroppo a Emeg il Jobs Act dal governo Renzi lo ritiene un errore da abolire questa legge grazie per questa telefonata un tema enorme quello della disoccupazione che è vero che incide forse anche con percentuali leggermente superiori rispetto alla media nazionale e non dobbiamo dimenticare come il nostro telespettatore ha ricordato l'evento del sisma io dico che dentro il sisma ci potrebbe essere anche una grande occasione oggi perché quello è il più grande cantiere d'Europa una delle cose che il governo e penso anche il governo regionale dovrà mettere in campo è cercare procedure per snellire e far ripartire la ricostruzione nella ricostruzione di quei territori c'è la possibilità di non spopolarli e c'è la possibilità anche di vedere tanti cantieri e quindi tanto lavoro se potessimo avere una norma molto simile a quella del ponte di Genova per i cantieri pubblici nella nostra regione potremmo avere veramente un cambio completo di paradigma rispetto all'occupazione ora siamo davvero in chiusura sindaco che cosa si auspica per il suo futuro intanto mi sembra che ci siano delle condizioni per intraprendere un'avventura di una regione che conosco bene e alla quale sono molto legato e quindi provo a mettere a disposizione quella che non è una cosa che va di moda però un po' di esperienza un po' di capacità per far crescere le marche insieme ovviamente io ci proverò fino alla fine e vedremo poi alla fine quello che conta è che tutto quello che viene fatto è a un solo terminale i nostri cittadini e quindi con questo spirito che affronterò anche la prossima avventura grazie sindaco per essere stato di nuovo nei nostri studi come lei abbia il fatto ci sono tanti telespettatori anche dal comune di Senigallia e giù quindi ci fa piacere poter parlare anche di tutte le zone insomma che riguardano la nostra regione io sono stato ogni volta mi trovo talmente bene capisco che fra un po' non potrò essere più presente magari forse ci ritroveremo un'altra volta però da sindaco approfitto per salutare tutti perché forse è l'ultima volta che sono nella vostra trasmissione grazie davvero al sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi grazie a tutti voi per averci seguito un ringraziamento va anche alla regia di Riccardo Sora e a Cristiana Guerra e a buon proseguimento di serata a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti